Ma che è una gran generale, sicuramente è un modo per delinquere migliore che tagliare i cavi e vendere il rame, questo è sicuro, questo è sicuro, ce ne sono decine di questi gruppi e all'interno di questi gruppi ci sono anche 5-6 mila persone, madonna, cioè oltre a far incazzare il provider, a far incazzare anche la persona media che va a ricaricare e spende un euro al kilowattora. Buongiorno a tutti cari amici del trautti, benvenuti in questo nuovo video extra, sì perché extra, qui siamo nel nostro posto sicuro, posto tranquillo che è il podcast Frenata Rigenerativa, ma quest'oggi non parliamo in stile podcast, ma parliamo di una notizia. Ma prima di partire c'è un disclaimer che ci siamo dimenticati nella puntata di Tesla. Esatto, in realtà il disclaimer l'abbiamo messo in descrizione. Noi non stiamo incoraggiando nessuno a far niente, stiamo parlando di cose e fatti completamente falsi derivanti da una realtà distopica, non invitiamo nessuno a far niente e tutto ciò che diremo sarà frutto di immaginazione alimentato unicamente da satira. Vabbè comunque ragazzi dovete sapere che oggi parliamo del pezzotto, il pezzotto delle colonnine. Il pezzotto diciamo che è nato in questi anni, questo termine, per definire quelli che andavano a scroccare le partite tv da Sky, una volta eratele più. I pirati questo giro hanno pensato bene di fare il pezzotto sulla ricarica delle colonnine, quindi oggi tecnicamente è possibile attraverso un invito ad un canale Telegram, ne esistono diverse decine. Attraverso questo invito si entra all'interno di una web app che vi dà la possibilità di andare a ricaricare la vostra auto pagando dai 17 centesimi ai 25 centesimi al kilowattora, anche a colonnine DC-HPC, quindi ad alta potenza, dove normalmente il prezzo oscilla tra gli 80 centesimi e 1,05 euro, quindi c'è un effettivo risparmio di oltre il 90%. Al di là, prima di inoltrarci a parlare di tutta la questione anche etica e di sto cavolo, esattamente, spiegaci come funziona, come fanno a ingannare la colonnina. No, la colonnina in realtà non viene ingannata, perché comunque tu nel momento in cui entri in questa web app dove ci sono tutte le colonnine d'Italia, quindi vedi proprio tutti i puntini sulla mappa, selezioni la colonnina dove sei tu e gli schiacci, fai partire la ricarica e la ricarica parte, quindi c'è un'autenticazione effettivamente con la colonnina, con un provider, non sappiamo quale sia, che poi effettivamente fa partire e la colonnina eroga energia. Ovviamente abbiamo cercato di capire in queste settimane come potessero andare a fare questa gigantesca scammata. Beh, ciò che ne è venuto fuori è molto interessante, perché prima di tutto le aziende che ci sono dietro le colonnine e i vari provider sanno dell'esistenza di questa cosa e hanno già cominciato a correre ai ripari, sentendosi anche con le forze dell'ordine, perché praticamente qui si sta rubando soldi, quindi è proprio una truffa fondamentalmente. Detto questo abbiamo cercato di capire, andentrandoci in questi gruppi sotto false spoglie, chiaramente, e sostanzialmente ci sono due tipologie di questi abbonamenti. La prima è quella più probabile, ossia che varie società di noleggio fanno degli accordi commerciali particolari con aziende tipo Enelix, eccetera, per avere dei kilowattora in sottoforma di abbonamento, tanti kilowattora, perché magari hanno 200 veicoli elettrici, ok? Sono mensili e non si sommano, quindi finito il mese se tu non li hai fatti fuori va a finire che quelli kilowattora lì tu li hai pagati, ma non li hai utilizzati. Quindi queste stesse società di noleggio aprono questi canali Telegram e lì vendono i loro kilowattora che avanzano. Tecnicamente il pagamento funziona attraverso una parte in Paypal per aprire l'account su queste piattaforme ad un utente, quindi tu fai un pagamento Paypal come amico tu pensa e quindi vengono tracciati anche i nomi, eccetera, eccetera, quindi quella roba qua è tutta tracciata ragazzi, cioè non è che ci scappate e dall'altra parte poi viene fatto una richiesta di pagamento a fine ricarica con un portafoglio in criptovalute che se non lo sapete anche gli spostamenti sulla blockchain sono tutti completamente tracciati, quindi non è una cosa che dici ah non mi beccano, no, ti beccano comunque se volessero, ok. Dall'altra parte abbiamo invece un altro dubbio perché parlando con alcuni operatori ci dicono sì ma non sempre noi riusciamo ad imputare il provider, non riusciamo ad imputare a chi far pagare questi soldi e quindi ci arriva una ricarica, noi l'autorizziamo poi però non sappiamo chi fare la fattura e qui si sospetta che sia stato diciamo traccato il protocollo di comunicazione, non è facile assolutamente, è poco plausibile anche perché comunque l'autenticazione arriva da un provider italiano di cui non facciamo il nome chiaramente che autentica, quindi autentica non autentifica, che autentica la transazione e quindi fa partire la ricarica. Ovviamente noi abbiamo un canale Telegram che è una delle più grandi community diciamo sulla mobilità elettrica, una delle anche prime, ma danniamo automaticamente tutti quelli che cercano di spammare questa cosa, questa notizia, perché ovviamente noi ingoniamo. Anche i privati. Anche i privati. Anche chi cerca di riprendere, tipo finisce l'abbonamento e ti dice vuoi 20 chilometri. Esatto, perché chiaramente questo è contro i termini e i regolamenti che vengono poi effettivamente firmati o accettati quando aprite un account su queste piattaforme di ricarica come Leitut On The Road, Enel X, Ioniki. Quindi nel momento in cui un CPO divende un abbonamento con tot kilowattora, se tu non li utilizzi non li puoi rivendere. Punto. Questo è quanto. Queste società di noleggio che fanno questi abbonamenti che quindi avranno un pacchetto di kilowattora a un prezzo immagino molto basso. Qua si apre anche un altro capitolo perché a questo punto allora io, Matteo, Ginger, Caio, Sempronio ci mettiamo d'accordo, compriamo un abbonamento a un prezzo stracciato e ci conviene. Ma magari si potesse fare. No, dico, non è. Se ci state ascoltando, voi magari che avete una azienda che vende energia, se volete fare dei pacchetti per noi e per i nostri followers saremo molto contenti, ovviamente. Chiaro. Tutto legale, però, perché altrimenti, eh, insomma. Tu, Ginger, cosa ne pensi? Ma che è una gran generata. Sicuramente è un modo per delinquere migliore che tagliare i lavvi e vendere il rame. Questo è sicuro. Questo è sicuro. È molto strana la questione di autenticazione della colonnina. Secondo me deve essere obbligatoriamente un interno del CPO e quindi che venga punito. Sì. Penso che ce ne sono decine di questi gruppi e all'interno di questi gruppi ci sono anche cinque barra sei mila persone. Madonna. Quindi è un fenomeno molto… Fan girare un pacco di soldi. Fan girare un pacco di soldi e questa cosa, magari per te che lo stai usando in questo momento, è vantaggioso, ma diventa svantaggioso per gli altri. Esatto. Perché chiaramente il provider di turno che si trova una fattura da 50 mila euro di energia che non ha erogato, cioè che ha erogato, ma che non ha incassato, adesso… E ci devi pagare le tasse. Esatto. E ci devi pure pagare le tasse. Adesso cosa devo fare? Cioè oltre a far incazzare il provider, fa incazzare anche la persona media che va a ricaricare e spende un euro al kilowattora alle colonnine fast. Non è una cosa sostenibile, a lungo termine e non è una cosa che… cioè a parte che è illegale completamente e ovviamente noi facciamo un altro disclaimer, noi non vogliamo che voi andate oggi a cercare questi vari gruppi Telegram e vi inseriate lì dentro, anche perché come vi ho detto vi stanno tracciando tutti. Prima o poi potrebbero venire a prendervi, potrebbero dire vabbè abbiamo risolto il problema, basta, quello che è stato è stato. Però quello che è stato è stato non lo so effettivamente. Ricorda anche che la colonnina salva il wind dell'auto. Che? Salva il wind dell'auto. Quindi salva il tuo numero di telaio. Il numero di telaio è univoco. Il numero di telaio è collegato alla tua persona. Tu fai una query sul server che ha dentro il log delle ricariche e gli estrai tutti i wind di tutte le ricariche in cui la fattura non è stata pagata. Tu prendi questi VIN, li mandi all'azienda X, di potenza. Sì, oppure la polizia di stato. Sì, poi dopo fanno tutto loro chiaramente. risalgono a te. Poi molte volte le colonnine sono in posti pubblici dove ci sono anche le telecamere e quindi vengono anche a pigliarti perché poi vai a dirglielo te che non lo so chi lo fa quel giorno lì. Poi onestamente secondo me non succederà niente a chi ha consumato. Eh sì, perché è più facile che vada. Non c'è del dolo da parte di chi consuma. Anche perché tu che consumi paghi. Sì. Va bene in una forma strana, non paghi le tasse. Cioè non viene specificato niente. Non paghi le tasse. Non paghi le tasse. Non paghi le tasse. Ti viene detto 2 kilowattore da un mix euro. Però per esempio io so che per esempio chi compra articoli, borse firmate false, anche chi compra a meno che non sapesse che fosse falsa. Ok, single è vero. Però lì è falsificazione del prodotto. Sì. Qui è vendita di un servizio. Però sì, è vero. Non lo so, dovremmo invitare un avvocato per provare a capire questa cosa qua. Comunque in ogni caso, per piacere ragazzi, non fatelo perché fate del male alla comunità degli elettronauti. Questa è la legge. Angelo Greco, un saluto. Tra l'altro ho visto un posto di Angelo Greco che lanciava il pallone da baseball al figlio a petto nudo. Superfisicato, Angelo. Grande Angelo. E praticamente sotto nei commenti c'è stato un... Un tipo infamato. No, no. Un delirio pazzesco. Del tipo lei sta lanciando la palla a suo figlio ma quello che arriverà a suo figlio è un missile terra-aria o cose del genere. Oppure da questa la legge a io sono la legge. Numero uno, tre della legge sono io. Comunque ragazzi, se volete altri argomenti extra, sempre così belli piccanti, fatesi sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non dimenticate, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina. E poi? Iscrivi, perché qua non c'è. Di guardare il podcast che esce mercoledì sera. Ah, certo. Domani esce il podcast. Eh. Alle 20. Ciao. Ciao. Ciao.